Nella tarda mattinata di domenica il personale da questua triestina ha denunciato per ingiulio un uomo GM, queste sue iniziali, nato nel Trevigiane, residente a Trieste, a bordo di un autobus della linea sede a testa e trasporti, poiché ammolostato e ingiuliatto pesantemente contro un uomo di etnia africana. Il fatto è stato notato e segnalato dai passeggeri che hanno chiamato al 113 un equipaggio da questua volante che è sedicato sul posto, ha raggiunto il mezzo in via Lebiramare. Saliti a bordo, gli operatori hanno identificato le persone interessate e una volta scesi, ricostruito l'episodio, hanno denunciato l'italiano appunto per razzismo.